Ora è sempre resistenza! Ora è sempre resistenza! Ci stanno trattando da schiavi in questo momento, quella cosa non va quanto bene. Non si riesce a fare metalmeccanici fino ai 70 anni. Ottore di sciopero in tutta Italia, è il giorno dei metalmeccanici, il giorno in cui rivendicano a gran voce i loro diritti. Lo stane! Potere! 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 Vogliamo essere visibili a qualsiasi governo e tornare ai tavoli per discutere anche della nostra parte, dei dipendenti, della categoria dei metalmeccanici. Abbiamo deciso di iniziare così questa grande manifestazione e ringrazio tutti i metalmeccanici e le metalmeccaniche che sono oggi qui in piazza. Le strade di Milano si tengono di rosso, verde, blu e bianco sono i colori del lavoro. Oggi siamo in una fase di grande cambiamento, il digitale, le tecnologie, bisogna ripensare i prodotti, bisogna pensare a non inquinare e basta guardarsi intorno. Tutto ciò che si vede intorno è fatto da persone che sono metalmeccaniche, anche gli strumenti che sta usando lei sono metalmeccanici, si vede intorno tutto quello che avviene ed è fatto con l'intelligenza delle persone. Quindi rimettere al centro, non il metalmeccanico, rimettere al centro le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare i loro diritti, la loro intelligenza e la loro qualità. Circa 2000 posti a rischio nella sola Lombardia. La manifestazione di oggi è stata promossa da FIOMCGL, FIMCISL e UIL, un lunghissimo cortevo da Porta Venezia fino in Duomo per chiedere al governo e alle imprese di mettere in centro il lavoro, l'industria, i salari e soprattutto i diritti. Ci spacchiamo le spalle otto ore e loro devono capire veramente che siano davvero i lavoratori che lavorano e che si spaccano la schiena, quindi chiediamo più salario anche, più dignità. Fa parte dell'Italia questo settore, se no non va in crisi tutto, se no, quindi è importante. Non bisogna toccare il fondo, giusto? Esatto, e ricominciare a rinascere, a rinascere. Grande Simone! Dobbiamo delle certezze sul lavoro e delle certezze nel lavoro perché siamo stanchi di morire per il lavoro. Lottiamo per il nostro futuro, per quello dei nostri figli, è fondamentale non mollare neanche di un millimetro e che il governo ci ascolti, siamo in tanti, siamo tutta l'Italia unita. Una mamma e lei la piccoletta e penso che sia la più piccola della manifestazione oggi. Fermiamo tutto e portiamo di nuovo l'Italia nel motore che ci aspetta in Europa, i primi posti in economia, in sviluppo, industria. Puntiamoci il nostro lavoro e puntiamoci i nostri giovani in fabbriche che mancano!